Mbakogu, primo gol con la maglia del Carpi, la profondità, questa volta con una lettura piuttosto pigra nella circostanza da parte di García Atena, si è infilato bene Mbakogu sull'assist di Fedato e il Carpi avanti e finisce quindi qui il digiuno da gol in trasferta per la formazione emiliana 428 erano, siamo a ulteriori 70, 498